Buongiorno a tutti, mi chiamo Nao e vi do il benvenuto alla conferenza stampa di presentazione di DigitalMid 2015. Sarà un'edizione tutta da vivere in cui avrà ampio spazio la creatività come ricordano le quattro parole scopri, usa, crea, sogna. Senza dimenticare la concretezza del tema chiave di questo anno, Manufattura Digitale, occasione per la crescita. Con piacere lascio ora la parola al magnifico Rettore dell'Università di Padova, Giuseppe Zaccaria. Grazie, grazie Anna.